Immagina i dettagli della tua casa ideale, colori, forme, materiali. Porte Garofoli, le uniche coordinate con armadi, parchi e buiserie. Porte Garofoli, la scelta per la tua casa. Mister, una vittoria che vi dà ancora più sicurezza, vi mette a riparo da eventuali discorsi di salvezza. Una vittoria che forse è stata più sofferta del previsto. Per quanto riguarda la vittoria, è chiaro che sono tre punti importanti in chiave di salvezza. Non abbiamo fatto ancora niente perché la matematica non è certa, però è chiaro che questi punti sono pesanti. E fortunatamente li abbiamo conquistati, come hai detto te, è stata dura. Non più del previsto perché io sapevo che sarebbe stata dura così. Sì, è tutta la settimana che predico e parlo con i ragazzi che questa sarebbe stata la partita più complicata dell'anno per certi versi. Comunque era un crocevia importante per la qualità e soprattutto per la qualità. È quello che ha dimostrato il Castelfidardo nelle partite e nei video che ho visto. Siete partiti subito forti, avete trovato il vantaggio, poi forse la squadra sia un po' accontentata di difendere il risultato. Io credo che tutto il primo tempo sia stato ben giocato. Ben giocato dalla Sama Prese e ben giocato anche dal Castelfidardo. Noi siamo stati bravi a trovare il gol, abbiamo avuto un altro paio di situazioni che secondo me dovevamo far meglio, soprattutto con più determinazione, che è forse la cosa che in alcune circostanze ci viene a mancare a noi. Il secondo tempo invece siamo entrati in campo con contratti timorosi. La paura probabilmente di vincere è stata più grande della lucidità che dovevamo mantenere. Poi il Castelfidardo è iniziato a spingere e noi abbiamo pensato solo a difenderci e effettivamente abbiamo concesso troppo al Castelfidardo. Però alla fine ne siamo usciti comunque vincitori fondamentalmente. Quanto manca ancora secondo lei per il traguardo della salvezza? Ma io faccio una quota 42-43 punti che è la quota sicurezza. Quindi per quanto riguarda la Sama Prese almeno 9 punti e siamo in quota sicurezza. È chiaro che dobbiamo raggiungere il prima possibile quota 40 e poi vediamo. Nel senso che non mi voglio porre limiti ma non voglio pensare a nessun altro tipo di traguardo se non la salvezza al momento perché come abbiamo visto oggi e come ci dimostra fondamentalmente il calcio ogni partita ha mille insidie. Si può avere divario in classifica con tanti punti però alla fine poi quando sei 11 contro 11 il campo quel divario è completamente azzerato. deve venire fuori il lavoro che poi non è solo atletico, tattico, tecnico perché poi alla fine la mentalità è quella che è alla base di ogni successo e oggi questa mentalità a noi soprattutto nel secondo tempo è venuta meno. Grazie mister, in bocca al lupo. Immagina i dettagli della tua casa ideale, colori, forme, materiali. Porte Garofoli, le uniche coordinate con armadi, parchi e buiserie. Porte Garofoli, la scelta per la tua casa. Mister, siamo qui a commentare una sconfitta francamente immeritata. Avete pagato fin troppo le disattenzioni iniziali e avete subito il gol su appunto una disattenzione difensiva chiamiamola così, poi nel secondo tempo praticamente avete sempre attaccato non siete riusciti per un soffio a raggiungere il pareggio. Sì, abbiamo sofferto i primi 5-6 minuti, poi dopo abbiamo regalato questo gol, un genio si poteva far meglio poi dopo secondo me abbiamo giocato per 80 minuti noi e mi davamo il pareggio e qualcosa in più nell'arco di 90 minuti. Si è visto solo una squadra, specialmente nel secondo tempo, loro non sono riusciti a dire non dico a non superare il centrocampo, però erano sempre sotto pressione. Noi siamo arrivati spesso in zona tiro e dobbiamo migliorare, non calciamo poco in porta, arriviamo sia al limite e facciamo quel tocco in più. Poi abbiamo avuto l'occasione e dobbiamo migliorare là davanti. La squadra c'è, è viva, è una squadra che ha giocato e non posso rimproverare niente ragazzi. A differenza di domenica, oggi c'è stata grande attenzione, solo i primi 5 minuti sul gol, poi dopo ho visto una grande squadra di grande personalità che ha cercato di giocare palla a terra e di arrivare sempre tra le linee. E questo bisogna crederci e continuare. Il campionato è lungo, l'ho detto anche nello spogliatoio, basta poco per ritornare a vedere un po' di luce, però bisogna credere, bisogna tirare in porta soprattutto. Una formazione già rimaneggiata, sotto di un gol si è infortunato De Vita, nonostante questo la squadra è reagito, non hai rinunciato alla difesa 3, hai arretrato Di Lollo, poi alla fine una formazione completamente vuotata all'attacco. Sì, poi alla fine abbiamo cercato di mettere più giocatori offensivi per cercare di creare più densità nell'area avversaria, abbiamo messo i due attaccanti per cercare di giocare sulla seconda palla, gli ultimi 5-6 minuti, però prima secondo me la squadra ha giocato un gran calcio contro una squadra ben organizzata che gli concedeva poco, una squadra che ha subito pochi gol e questo va a valorare la prestazione dei ragazzi che devono continuare a credere. Lo ripeto, l'ho detto nello spogliatoio, non bisogna mollare perché il campionato è lungo veramente, 13 giornali sono tantissime, basta poco per cambiare l'esito di tutto. Forse sembrerà una magra consolazione, però c'era prima qua il presidente della San Maurese che commentava una delle peggiori San Mauresi del campionato a merito del Castelfidardo, sottolineando il fatto che il Castelfidardo per 75 minuti ha fatto la partita. Sì, ma si è visto, non c'era bisogno del presidente, la prestazione negativa loro è stata soprattutto della nostra perché noi abbiamo fatto un buon calcio, tanto pressing, abbiamo messo sempre sotto pressione, loro hanno cominciato ad avere paura, non si aspettavano secondo me un Castelfidardo così aggressivo, così in palla e con la testa giusta. Oggi c'eravamo, a differenza di domenica, oggi non posso veramente rimproverare nulla ragazzi, solo il risultato ci sta andando male, però io credo tantissimo, ma soprattutto la fortuna prima o poi girerà dalla nostra parte. Ormai non è più una casualità, l'atteggiamento iniziale della squadra, quei primi dieci minuti che il Castelfidardo probabilmente non entra ancora subito in partita, come bisogna correggerlo? Bisogna lavorare, è una questione di testa secondo me, mentale, bisogna cercare di lavorare anche su quello, sto cercando, sono arrivato da dieci giorni e sto cercando di lavorare soprattutto sulla testa, perché la qualità la squadra ce l'ha, l'importante in questo momento, l'ho detto pure a loro, serve una vittoria per cercare di portare sul morale, l'autostima è fondamentale e questo ti migliorerà a fare prestazioni diverse, soprattutto i primi dieci minuti. Secondo me stavamo anche in partita, è proprio l'episodio che ha fatto cambiare, è strano, a volte poi ci soffermiamo sempre sul gol e sulla situazione, però bisogna guardare i 90 minuti e secondo me, ripeto ancora un'altra volta, forse patetico, ma oggi alla squadra non bisogna rimproverare nulla. Grazie mister. Immagina i dettagli della tua casa ideale, colori, forme, materiali. Porte Garofoli, le uniche coordinate con armadi, parchi e buiserie. Porte Garofoli, la scelta per la tua casa.